ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube oggi nuovo video sto registrando con un nuovo metodo di registrazione appunto e ovvero con il mio cellulare e quindi spero che le immagini e l'audio siano più chiari fatemi sapere mi raccomando lasciatemi un feedback nei commenti qui sotto al video video creazioni in cui vi mostro alcune delle creazioni che ho realizzato in questo periodo parto con questa di cui avete già visto un video dedicato sul mio canale che si chiama orgoglio amalfitano è un ciondolo che ho realizzato in onore della regata di amalfi e è veramente molto semplice lineare rappresenta appunto la croce di malta non voglio soffermarmi molto perché appunto ci sono tutte le informazioni nel video che vi lascio nelle schede in alto e nella descrizione qui sotto è un ciondolo unisex ho appunto creato questa questo pendente con la tecnica peyote utilizzando più di 600 perline e ho abbinato poi questo cordoncino trecciato in tinta e una chiusura in acciaio con i terminali appunto anch'essi in acciaio è stato molto apprezzato dagli amalfitani e spero che piaccia anche a voi questo appunto è un ciondolo che fa parte di una serie limitata di creazioni che realizzerò in onore della costiera amalfitano sono tornata a lavorare il wire era da tantissimo tempo che non realizzavo qualcosa con questa tecnica e appunto queste questi sono degli orecchini che avevo realizzato già tempo fa ma in un'altra colorazione con delle perle viola questa volta ho voluto realizzarli con queste perle appunto color acqua marina che mi piacciono veramente tantissimo sono delle perle da 6 mm e questo è il risultato finale ho utilizzato dell'alluminio ramato del rame smaltato e dell'artistic wire voglio mostrarvi poi il pezzo grosso diciamo del del video che è la collana half moon ho deciso di chiamarle in questo modo per la sua diciamo forma a mezzaluna è una collana che ho realizzato con delle checkmate style che sono queste qui nere delle che ops argentate eccole qui delle daghe dei mezzi cristalli e delle rocaille in questo caso ho utilizzato una catena per diciamo completare la collana e una semplice chiusura a moschettone qui ho utilizzato anche delle drops e ho alternato appunto le daghe con le drops ne realizzerò altre in altri colori perché mi piace molto come come stile come creazione spero che piaccia anche a voi fatemi sapere cosa ne pensate l'ho realizzata nel semplice abbinamento argento nero perché appunto avevo i materiali di questo colore e volevo sperimentare un po per creare una collana di questo tipo era da tanto tempo che ne volevo fare una infatti mentre la realizzavo mi sono venute in mente tantissime altre idee da realizzare con le tile che mi piacciono molto sono delle perline che mi stimolano la fantasia quindi sicuramente vedrete qualcos'altro in futuro con queste perline volevo mostrarvi poi anche la versione verde oro che ho realizzato della collana alf moon ci sono delle piccole differenze con la collana che vi ho mostrato in precedenza e cioè ovviamente oltre ai colori la catenina del retro che ho realizzato appunto con delle perline 11 0 e un semplice moschettone sempre in acciaio dorato inoltre ho utilizzato delle daghe per tutta la lunghezza per tutta la circonferenza appunto della collana alternandole in questo modo cioè una che cade leggermente più lunga e una più corta ciò che cambia in realtà è soltanto il numero delle perline che si trovano prima e dopo la daga quindi qui ne ho messe quattro avanti e quattro dietro e qui due e quindi si è venuto a creare questo girocollo diciamo un po più movimentato nella parte nell'ultima fila di perline a me piace tantissimo questa versione però ovviamente dipende dai gusti c'è a chi piace di più quella argento e nera e a chi piace di più questa qui che è appunto verde e oro ho utilizzato poi le stesse identiche perline che ho utilizzato per la collana argento e nero e questa qui l'ho realizzata in collaborazione con il sito perlinebijou.com quindi qualora voleste realizzarla troverete il tutorial qui sul video nelle schede in alto oppure nel box informazioni qui sotto al video c'è sia la versione italiana che la versione inglese e infine voglio concludere questo video mostrandovi dei portachiavi che ho realizzato che sono questi sono dei portachiavi con realizzati con la tecnica dello square stitch si vedete anche abbastanza bene la bellezza di queste perline che hanno dei riflessi spettacolari e quindi questi sono dei portachiavi che ho realizzato in diciamo in onore della salernitana della squadra della salernitana come sicuramente qualcuno di voi già saprà io sono di salerno quindi questi sono per la squadra di calcio della mia città li ho realizzati con la tecnica dello square stitch che devo dire è una tecnica abbastanza lunga ho impiegato veramente tantissimo tempo a realizzare questi portachiavi non credevo ci volesse tantissimo così tanto tempo non ricordavo appunto di aver impiegato tutto questo tempo per realizzare il bracciale del quale ho fatto il tutorial poi in cui ho spiegato come realizzare questa tecnica non la praticavo da tanto tempo e quindi mi sono rimessa al lavoro però devo dire la verità ho impiegato tante tante ore sicuramente con un telaio il lavoro si sarebbe velocizzato tantissimo però io l'ho realizzati a mano senza l'ausilio di alcun telaio e questo è il risultato finale ho utilizzato queste perline granata che sono molto belle qui potete vedere appunto i riflessi hanno una finitura a b poi ho utilizzato queste semplice opac white e questo appunto è il risultato finale io spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi abbia tenuto qualche minuto di compagnia vi ringrazio come sempre per la visione di questo video fatemi sapere quali sono le vostre creazioni preferite noi ci vediamo prestissimo con altri nuovi video un bacione alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti